E' nato da una proposta dell'Associazione Fondazioni Casse di Risparmio, il progetto Non sono un murales, segni di comunità, che in occasione della giornata europea delle fondazioni ha voluto coinvolgere i giovani di un centenario di comunità italiane in un percorso di partecipazione e solidarietà a favore del territorio, partendo dalla creazione di un'opera d'arte. Ad Alessandria la Fondazione Casse di Risparmio di Alessandria ha coinvolto nell'iniziativa agli studenti che frequentano l'aula studio della comunità San Benedetto al porto di Via Verona. L'opera d'arte da loro realizzata è composta da uno stencil, ossia una maschera normografica, che rappresenta un adulto che aiuta un bambino da lasciarsi le scarpe, quindi un gesto di supporto che richiama simbolicamente la mission che le fondazioni svolgono a favore del territorio. Dopo lo scomprimento del murales alla presenza di rappresentanti dall'amministrazione comunale e del Presidente della Fondazione Casse di Risparmio di Alessandria, Luciano Mariano, è stata inaugurata anche l'aula studio Porto Idee, recentemente risultata proprio grazie allo finanziamento della Fondazione. Uno spazio di circa 400 metri quadrati a disposizione degli studenti, una settantina a quelli che lo frequentano abitualmente. Un bellissimo esempio di comunità che aiuta i giovani a crescere e a diventare responsabili e indipendenti, ha commentato il Presidente della Fondazione Casse di Risparmio di Alessandria, Luciano Mariano. Per questo abbiamo voluto contribuire ad un progetto in cui crediamo fermamente. La comunità San Benedetto al Porto, avvalendosi quindi di una struttura rimodernata e di mezzi tecnologicamente avanzati, darà un nuovo contributo alla cultura e alle attività giovanili della città di Alessandria, con nuove iniziative che saranno lanciate nei prossimi mesi.